Eh, non importa, dai, vabbè. Sorry. Sto iniziando a tornare verso casa. Sapete indicarmi più o meno dov'è l'altare senza che diventissimo a cercarlo? Sì, è... Praticamente è fra la nostra... La tua casa e il porcile. Letteralmente. È il porcile dove tengo i maiali, praticamente. Sì. Fai conto che dalla casa nostra, dalla casa, da quel fortino, vai verso nord? Vai tipo, vai verso nord alle ore una della casa. Dove ci sono i maiali... Ed è proprio lì attaccato, è veramente... Sì, sì, sì. È veramente molto vicino. Esatto. Eh, ma non so se riusciamo a dormire, eh, Grom. Eh, beh, non so, no. Comunque lì dove sei tu c'è un rifugio da sistemare, che è lì vicino, nel centro della pianura, che avevo già marcato anch'io. Se guardi, a ovest c'è una casa, si doveva essere una casetta. Madonna che scagato. Ma infatti anch'io ho paura tanto di perdere tutto qui. Io mangio, perché... Cazzo, 600 secondi, se diezze minuti. Grazie. Ah. Uh, è quel posto lì? Mm-mm. Facca di... Questo rumore. Troll? Sì, c'è un troll quasi fatto. Sì, lo vedo. Sì, c'è un troll. L'ho visto, l'ho visto. Sì, sì. L'uccidiamo? Sì, sì. Che non venga a rompirci le balle durante la boss fight. No, assolutamente. Lo agro, eh. Anche a posto. L'abbiamo ucciso, l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto due headshot, cazzo, l'abbiamo eliminato subito. L'abbiamo fatto il critico, cultivo. L'altra caverna fa tutto. Prendite, prendite. Ah, sì. C'è pure una caverna. C'è un po' in mappa. C'è la stessa bioma dell'altra parte, no? Eppure così paura. Non so se avete sentito quello che stavo dicendo, scusatemi. No. Stavo parlando. No, dicevo, la caverna del troll può avere lutto o no? Sì, sì, sì. Sempre di solito, c'è. È tipo, è tipo come si chiama, schema troll cave. Sì, no, sto pensando, tipo la compagnia dell'anello, quando trovano tutte... C'è uno spawner anche quel sinistro, c'è uno di quelli spawner di cazzini. Sì, 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 si, distruggiamo. Vogliarmi elfi, che tipo. Sì, ma magari quelli puliamo la zona prima. No, ma sì, ma ci sono anche gli orchi, arche e i goblin in sto gioco, solo che non ci sono all'inizio. Mi mettono più avanti. Cioè, quindi ci sono tanto, cioè, tanto ampio. Ampio. I troll sono fighissimi. Ho trovato qualcosa. C'è un altare davanti a un sasso. Ok, potrebbe... C'è un cervo, tipo? Di pietra su delle... Un attimo che sto fichando un... Rompicoglioni di... Di burchetta. No, sì, c'è un cervo. Allora, leggi la runa. Anti skin. Sì, sì, vai. Sei in posto giusto. Caccia il suo... Caccia il suo genere. Va' altra... Distante da... Per far vedere dove sei. Vabbè, intanto è diventato giorno, però. Così ci vediamo anche... Ci vediamo meglio. Ah, non sei lì? Eh, tu hai trovato un altro altare, Ark. Sì. Eh, non è quello vicino a casa nostra. Ha visto dove è. È quello vicino a casa nostra, sì. Aspetta che sono qui a vedere come si chiama il boss. Ah, c'è scritto in mappa. Eiknir doveva essere. Boh, l'hai trovato un altro a casa così, Fio. Beh, Fio vuol dire che ce ne sono più di uno in giro. Ah, sì. No, no. Eiknir. Sì, è lui. È lui. Hai trovato essenzialmente un altro altare di Eiknir. Messe. Madonna. Eh, tre, due, uno. Ma va... Dove ci ritiriamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Non lo so. Dipende da dove sei lo spawn. Dove possiamo correre? Più che altro. Ok, lo sta spawnando di là. Sì, sì, sì. Io direi che usiamo le colonne come... Polisci... Spara, spara. Si sta alzando. Enorme. Non mi ha più alto i pilastri. Che cazzo fa? Ah, dobbiamo usare i pilastri qua a difesa, Don. Usa il pilastro poi a difesa. Sì, 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 sì. No, il problema è che... Lo flanco sulla sinistra. No, a destra. Vi ho finito la stamina. Uh, che cazzo sta tirando su? Le radici, le radici che ci picchiano. Occhio le radici. Arriva. Scheletro dietro. Non lo so. E' che l'ha ucciso, l'ha ucciso l'attacco speciale del tipo. Occhio le radici fanno parecchio male, eh. Però vanno via dopo un po'. Ah, scappo, corro. Cambio zona, cambio zona. Sto correndo, sto correndo, sto correndo, è bellissimo. E' stra easy finora sta boss fight, però mi sta piacendo un sacco. No, ho mancato. Ma secondo me veramente ci finiamo le frecce qua. Ah, dai che è a metà. Eh, ma io ho solo 40 frecce. E adesso non è più interessato a spararci con quella magia lì. È interessato a picchiarci. Ah, no, no, ok, dai, dai. Vai, dai, dai, tira su sto cazzo di... Correre, correre. E' un Wixpoint quello che ha sulla schiena? No. Non lo so. Sì, forse sì. Sì, 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 sì. No, è un sasso tipo. Potrebbe anche essere, perché no. Oh, oh. Sono senza stamina. 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 Madonna, mi sento. Aaaaaah. Mangia, ricordati di mangiare. Sì. Grazie. Tutto frecce. Ah, sì. Figa però sta boss fight, ragazzi. Però vedi che... Vedi che questo qui ha già un attacco in più, mi sembra, rispetto all'altro boss. Sì. Questa cosa che mette giù gli arampicanti è partenza, si capisce, finissimo. Non lo sto colpendo, non lo sto colpendo. Ok, sì. Dai, ci manca poco. Chissà se potevamo preparare l'arena tipo con i spuntoni o così. Forse sì. Come sotterraria. Beh che è morto. Sì. No, ma quindi dobbiamo affrontarlo due volte, cazzo. Perché? Perché il Lutte lo può prendere solo uno. The Swamp key. Ma se noi possiamo farlo due volte? Io ne ho un tanto. Beh, non ho frecce. Io ne ho due volte a farlo qualche volta. Eh, anch'io però non ho frecce. Io ne ho 33 infocate e 50 normali. Ma secondo me possiamo provare a farlo anche in me lì, eh? DG. Vuoi provare? No, possiamo provare. Va bene, provare. Mi ho dato tanti avi. Ti do un po' di frecce. Ti do metà delle infocate e metà delle normali. Grazie mille. Io provo ad andare un attimo in me lì all'inizio, voglio vedere. Anzi, no. Finisco le frecce infocate. Sì, piuttosto. Forse non dovevo rompere quell'albero. Oh oh! Cos'è uscito? Forse non dovevo rompere quell'albero. Un troll? Ah no, hai fatto cadere qualcosa sulla casa, vero? Occhio. Ma quale casa, scusa? No, la nostra casa, giusto? La tua? La tua, no? Sì? Cos'è combinato, Art? È venuto giù mezza foresta. Ah, va bene. Tranquillo. No, no. Cioè, diciamo che ho evitato il 300 dei maiali per un millimetro. E che se non sto attento, piglio la registrazione dei maiali lo stesso. Vabbè, dai, capita comunque, tranquillo. Importante che non mi hai ucciso i miei maialini. Eh, te lo dico tra due minuti appena cerco di sminare la bomba che ho creato. Mamma, come li ho schivati. Anche le musiche sono molto fiche. Mhm. Ogni boss ce n'è una. Ogni boss ce n'è una. Le palle in cima ai pilastri sono solo decorative? Penso di sì. Eh, scusate, che cazzo... No, l'arco dov'è? No, ho rotto l'arco. Non posso più usare l'arco. Si è rotto. Non ho più durability. Eh, abbiamo solo una soluzione, allora. Eh già. Madonna, come ho... Ho bloccato il suo attacco con l'ascia, come una mitragliatrice, tipo. Eh, ma tu hai durability. Sì, ti mollo le frecce, piuttosto? Oh, sì. Eh, si potrebbe fare così. Eh, ti mollo le frecce per terra qui. Sì, va bene. Via, 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 corri, 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 corri. Cioè... Vedi, gli ho scintilline. Dove va? Dove va? What the fuck? Oh, dove va? Dove sta andando? Ah, beh, è proprio qua, cazzo. Ma lei ha deciso il primo boss e arco? No, sto messo ancora un po' di legna... Eccetera. In primo caso. Perché mi sono nemmeno dimenticato come cazzo si scrive. Incoming! Oh! Devo, cazzo, stasso. Che non ho frecce, cazzo, mi spiace, vorrei farti compagnia. Ma vado a tencare da sotto. Adesso vado, vado. A tencare tipo provaci. Provo, provo. Vado, ti mollo le frecce infocate. Sì, perché non capisco come mai sta andando a largo in acqua. Cazzo fa? Siamo qui. Beh, è un... Oh, shit. Oh, merda. Ha chiamato... Tre radichette. È bellissimo comunque questa boss fight veramente figa. Sì, se non forse che stia andando a... Dove sta andando a... No! Ma sta scappando. Sta scappando di nuovo? No, non mi sembra. Però sta tirando te, eh. Oh, gli alberi. Cristo! Ok, gli alberi. Cristo! No, 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 no. Adesso io me la sento che moriamo spiaccicati dagli alberi. Che tira giù lui. Più che per il suo attacco. Ma sta andando via, sì? Che sta andando via? Occhio, 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 che ti prende, eh. So, so. Ah, no, non mi ha preso che curo. No, ha spaccato la roccia. Ha rotto la roccia. Non ci credo, ha rotto la roccia. Spacca tutto con il suo attacco, è incredibile. Io ho l'attacco con lo scuro. Ah, ma dai, ci provo. Ok, ho finito le frecce. Eh, sì. No, mi ha preso tantissimo. Però il problema è che se li andiamo vicino siamo fottuti. No, siamo fottuti, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Groma, aiutami. Per fortuna che... Abbiamo fatto il letto, lì, per fortuna. Ah, sì. Per un istante mi ero dimenticato. Sono riuscito a fargli qualcosa di bene, comunque. Ah, però il problema qual è? Il problema è quando spavano le piante che se ci sei in mele, cioè ti spiacica. Ah, sì, sì, quello è sicuro. Dov'è la mia roba? Dov'è la mia roba? Dov'è la mia roba? Ah, sono morto anch'io. Sei morto anche te? No, non dirmi così, non dirmi così, non dirmi così. Ma perché le piantine? Eh, sì, sì, sì. Il problema è proprio quello. Dai, il letto era settato. Si torna, si torna. Non riesco a prendere le cose, Grom. Non mi fa prendere le cose in automatico. Non mi fa prendere le cose in automatico. Sono morto di nuovo. Non mi ha fatto prendere il loot. Perché adesso è tutto verde qui? Perché stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando gli stronzi. Stanno arrivando mostri, mostri piccoli della foresta, ma tantissimi. Come caos facciamo? Non possiamo recuperare niente. Dobbiamo scappare. Non ho le armi, non ho neanche le armi. Oddio, c'è un brutto. Amalissimo. Che ansia. Ho preso un oggetto. Sono riuscito a prendere la mazza. Sono qua con te, sono qua con te. Sono riuscito a prendere la mazza. Almeno riesco a uccidere. No, mi sciotta. Possiamo rimanere qua un'ora per recuperare il loot. Ok, ok, ok. Ho ripreso tutto, ripreso tutto. Ma come fai? Io ho tutto da riprendere. Ho bisogno di tempo. Devi agrarlo, per favore, Grom. Devi riuscire ad agrarlo in qualche modo. Io non mi si prende tutto in automatico. Non so cosa c'è che è bugato. Devo prendere tutto uno alla volta. Devi darmi tempo se ce la fai. Da sennò io perdo tutto quanto. Sta scappando, sta scappando, eh. Sta andando verso il mare. Grazie. No, Moro, 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 Moro. Vai via. Sei morto, sei morto. No, no, no. È che c'ho tanti mostri e la legna continua a tirarsi su in automatico, no? E quindi se li empie... Allora, io adesso vado a coprire, vado a uccidere il brutto che c'è sulla tua tomba, eh? Grazie. Sì, ma c'è sto brutto che mi sta massacrando perché non riesco a pararlo. Posto, posto, dai. Mamma mia. Scusa, scusa per il palco. Guarda, guarda, legna! Ma che se non costriamo un dracar e portiamo a casa tutta la legna che c'è qua. Adesso dove cazzo è andato? Sto spaccando le scoglie e tutto. Sì, insomma... Sto raggiando un bombardamento, ho capito dovevo prepararmi. Ho ucciso due volte me. E se fosse, ho capito, ho capito perché non andava. Eh, i trofei dei cervi li devi mettere. E devi piazzarli nel tavolo. Te li metti nella hotbar in alto, no? Ma li metti nella hotbar in alto, Arc? Ah, li buttavo giù semplicemente. No, no, no. Devi impiazzarli nella hotbar e dopo cliccare il numero dove ci sono... Oh, che cosa succede? Oh, oh, Metal Nordic, wow! Più cazzo, cosa succede? Ho ancora 18 frecce. Tant'io lo tengo qua, grato. Au! No, 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 no! Non nel momento in cui stavo facendo altro, per favore, Gesù! Ah! Ah! Ho baffato il tavosso. Ah! Esploso! Che are... Hai legno normale, Don? Eeeh, 31. Ah, no, aspetta, faccio, faccio, faccio. Mi allungo, mi allungo. Madonna, sembra una faregnameria a questo posto. Ma non ho legno qua giusto. Ce l'ho, io ho 40 di legno, Grom, ho 40 di legno, te lo mollo giù, vieni qui, vieni qui. Vai, puoi fare 80 frecce di legno, vai a fare 80 frecce di legno. Ci bastano quelli 80 lì? Facciamo uscire un po' dall'acqua il bastardo. Quanto ci ha fatto sudare? Farlo una seconda volta senza le adeguate frecce. Adesso lo sappiamo. Sì. Posso uccidere lì? Sì, sì. Penso che ci arrivo io, sì, sì. Beh, Ark, dovresti vedere il campo di battaglia come è preso. Sì, ha raso solo tutto. Tutto. Alberi, pini, scogli distrutti, pini distrutti. Ultima! Sì, grande. Grazie. Oh, pace. E' meglio avere prima di tutto un posto in zona onde evitare con magari un teleporter piuttosto che far succedere quello che è appena successo. Siamo stati pionieri che siamo andati con la barca sopra un fiume a trovare il posto. È stato assurdo. Ascolta, visto che siamo qui vuoi che miniamo un po' di di roba da portare giù via con la barca? Visto che se l'abbiamo. Tu hai dietro il piccone? Io non ce l'ho. Oh, sì, ce l'ho. Sì, devo cambiare l'8bar. Io con il primo piccone cos'è che posso minare? Tutto in realtà. Tutto. Solo che fai meno danno all'oggetto che mini. Quindi ci metti un po' di più. E come faccio a riconoscere una cosa o l'altra? Te lo scrive. Quando vedrai un deposito di tin o di rame intanto beh, non ti spoilerò dove trovarli. Così devi esplorare un po'. Non l'ho sentito prima l'ho trovato nella Black Forest. Sì, sì, sì. Quello sì. Ma intendo... Ah, dove sono? Sì. Come solo dove trovarli in modo specifico. Eh... Te lo scrive proprio quando lo inquadri con il mirino ti dice Copper Deposit o Tin Deposit. Così, ok. Domani mi sveglio, mi sveglierò il pomeriggio e la prima cosa che farò sarà mettere sul barbecue e farò salsiccia. Esatto. Ma scusi. Ah, boh, si va. Cosa facciamo, si rimbarchiamo verso casa con questa pioggia terribile. Fa carica più la barca, se vuoi. Ah, ma sono opposto, eh. Col peso, non riesco a... pizza di descrizione della pizza yodo. Caviare, funghi porcini, salmone, baltico. Spero. Non si entrava in pizza. Come siete? Allora, siamo andati a fare un boss, il nuovo boss, siamo morti due volte di fila perché si siamo ritrovati senza frecce ed è stata una boss fight epica. Tipo il primo run, tranquillissima. Poi mi ha detto, beh, facciamo un'altra volta di fila. pessima idea. Tu avvertimi se abbiamo ostacoli davanti pericolosi a modi titanic. Beh, tu sei il miglior capitano sempre perché sono sempre andato non siamo ancora schiantati in maniera clamorosa. Clamorosa, sì. Non chiamare, va che tu ultimamente le stai chiamando un po' tanto, eh. Ma va là. Sai cosa? cerchiamo di non andare troppo a largo con sta tempesta se usciamo dal fiume. Magari arrivano i mostri marini. Sarebbe da fare, sai cosa? Sarebbe da fare un molo anche nella nella casa, quella nelle meadows visto che è vicino all'acqua o scavare in un porto tipo se deve fare. Eh sì, dovremmo fare due pontili, cioè uno dove abbiamo la miniera e uno dove abbiamo le meadows così possiamo attraverso così possiamo attraverso tornare la miniera perché sicuramente ci sarà un troll a guardarci. Beh, questa cosa delle barche è bellissimo, veramente. Mi sembra di essere tornato Assassin's Creed Black Flag. Ci prendono la sassata, i bastardi. No, no, ma poi è veramente figo, proprio, cioè, i paesaggi sono strafighi andare in giro così in barchetta insieme e penso che all'inizio avevo fatto anche la zattera. C'è un problema Don, siamo inseriti da trad, cazzo, 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 cazzo. perché è freddo, congelamento. Vabbè, dovremmo passarlo subito, c'è solo con questa schinchetta qui, no? Sì, 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 sì. Fammi gustare questo rientro con una boccata di tabba. sulla sinistra! What the fuck? Madonna, quello mi ha spaventato tantissimo, Grom. Via! No, 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 quello che non doveva succedere. Vai! Torna a bordo! Cazzo! Che ce la faccio, ce la faccio, un attimo. Ma che lo uccidiamo? No, 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 adesso, adesso, aspetta, 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 magari riesco a saltare dentro. Ma se, lo uccidiamo o lo fa solo che bene? Però non lo abbiamo faccio, quindi. Ah, vieni verso la riva, provo a venire più vicino verso la riva a sinistra che è il salto dentro. Tron sulla riva! Che spavento. Ah, bellissimo in sto gioco. Quello che non ti aspetteresti. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo. Con la riva. io direi, continuiamo a costeggiare, facciamo un viaggio un pochino più lungo, però costeggiamo la posta. Come vuoi, come vuoi. Tanto è, adesso il mare è calmo, quindi potremmo anche tagliare, cioè, ma se vuoi fare, forse, scostendere. Ah, lagg assurdo, lagg assurdo. Se vuoi che navighiamo vicino alla costa, ci sta. Sì, anche per esplorare un po' il bordo costo. Tu com'è che l'avevi scoperto fin qua in cima, facendo la costa? Facendomela a piedi. Sì, Sì, già. Che figo. Ahaha. Se cosa vuoi fare, ti abbiamo ucciso dal tuo capo. Lo metti su tu, lo metto su io? Ah, sì, dai, lo metto su io. ma, le creature qua della foresta si semenano? Sì, non sono tutte alleate? Sto vedendo uno scontro epico tra un brutto e un... dello scheletro? si picchiano, si picchiano, non so perché si picchia a servo fra di loro. Fissi anche! Non c'è problema. No, io preferisco, preferisco quello del... Eh, non so cosa fa. Faster wood cutting. Eh, taglia le linee più in fretta. Eh, deve andare là a papa, questo. Sì, che hai quei pugni. Taglia le linee a quei pugni. Sì, ma quanto è più veloce, fammi vedere. che adesso no, adesso c'è il cooldown però. Ah, sì. Vabbè, mi tengo il cerdo. Beh, vedi, per il copper, beh, ma lo vedi subito, Don? Eh sì, lo vedi subito, Arco. Veramente. Tu gira un po' e vedi che lo vedi subito. Mi sento dubbio, perché ora che gira non ho proprio fatto un cazzo. Trovano tutti i sassi, giocando un po'. Ti rocine o un'assolazione di sassi? Sì. Eh? La skin è proprio terrificante, ma non ho capito. Eh, no? Sì. L'unica, la canna da pesca non è craftabile, e la devi comprare. Devo comprarla dal merchant. Esatto. Devo comprare l'NPC. Quindi sarebbe anche figo andare in cerca dell'NPC. Sì. Sai quanto roba ho? Andiamo veloce, o lì solo corremo. Io l'armatura che non ho mai vista così danneggiata, tipo. c'è i pantaloni che sono l'80%. Per carità, non prende tanti danni, eh. Sono le armi che si rompono subito. L'arco. L'ascia. Oh. Ma se no, mi abbia beccato un pesce. Altro. Ma cosa stai facendo l'Arc? Arc? Penso sia dalle zone è andato a farsi il boss. Non si, si è già fatto. Ah, sei riuscito a fartelo il boss, Arc? Without any issues. Come ti è sembrato? Figo, figo, però niente di straordinario. Lo prego. No, il primo niente di che. Molto easy. E' figo, anche bella la musica, carina. Cioè, cazzo, non c'è cosa, una carina. Ma perché parli andanno, eh? Ma perché abbiamo il vento contro, non capisco. Cerchiare. Magari è danno passivo perché stiamo navigando. Voschi? Comunque è super tattico che abbiamo la nave e usciamo per fare questi ride dove ci serve. Da vincitori rientriamo. Non posso continuare un cazzo. Perché? Mi sembra che mi manca il tin, si sblocca anche il tin, giusto, questa parte del gioco. Mmh. C'è tin e copper e bronze. Sì, ma che si fa con il tin e il copper? Esatto. Che non posso fare nulla. Copper non può essere portato? No. Né il rezzo che neanche i lingotti. Nessuno minato. È necessario di usare una barca o usare un carretto per portarlo in giro. Effettivamente stavo guardando che la barca ha solo quattro slot, però ti permette di portare un sacco di player. Ma non so se posso caricare un carretto sulla barca. Oh, altro troll. Ne ha cinque perlato. C'è un altro troll. Eh, io sono senza frecce, però. Sta mangiando qualcosa. Qua ci arriva, eh. che scena. Ritorniamo con la nostra nave vichinga. Lo può essere andati a nord-est. Nord-ovest. In un lungo viaggio. Li vedranno se tutti via quanto, quanti giorni. Non trovi. No, di sé. Uno, due. O anche tre, forse. Ho da riparare tutto, anche ho bisogno di riparare. Comunque se ti serve smeltare roba ARC qui c'è già la nostra forgia.